Ah, sì raga, scusate, ieri il video non è uscito, cioè esce oggi invece che ieri, il discorso è che c'ho anche la scuola, ieri avevo un'interreazione importante di scienze, succede, insomma, questo è ancora un obbio, cento iscritti, guardiamoci in faccia, non ci prendo un centesimo, può capitare, però sapete che se non c'è il video un giorno esce il giorno dopo, sempre alla stessa ora, cioè alle 14, io mi scuso ancora, e comunque settimana prossima ci saranno due giorni di fila, due video, perché ci sarà alle 11 presentato e appena uscito voglio sapere farci il video, perché così fa di sicuro più views. Quindi niente, iniziamo. Allora, oggi con questo background di, cos'è questo, il Peru, sì, è il Peru 8K, stante FPS, parliamo di 5G. Cominato in diversi video vi ho detto un po', perché ancora il 5G non mi sembra una tecnologia utile e adatta alla vita di tutti i giorni, però non sono mai riuscito ad approfondire troppo, perché erano altri video, parlavano di altre cose, quindi ve l'ho un attimo buttata lì. Però adesso mi sono preso un attimo di tempo e parliamo di questo proprio, tutti i problemi e difetti che ha il 5G adesso, nel 2020. Tra l'altro ho appena tagliato i capelli, cioè, spero si veda, nel senso sono un po' più ordinati, forse, fa lo stesso. Allora, partiamo da uno dei problemi più noti, che hanno fatto più discutere, cioè la salute e come il 5G potrebbe essere legato ad alcuni cali di salute in certe persone, appunto. Tutto o quasi, le cose più importanti, si basano sul fatto che, essendo il 5G molto più veloce, ha bisogno di una frequenza molto più alta, quindi queste nuove onde ad alta frequenza hanno anche un maggiore consumo energetico, quindi insomma sono più energetiche, so che suona male, però sono più energetiche e questo fa un po' paura a molte persone. Vi do un paio di numeri per capirsi meglio. Mentre le frequenze del 4G sono intorno a 2.5 GHz e quelle di casa vanno dai 2.4 ai 5, quelle del 5G arrivano fino a 300 GHz, che sono ovviamente tantissimi, e beh, insomma, quindi non è un piccolo incremento, come siamo abituati un po' a vedere ormai nel mondo della tecnologia, è proprio uno stravolgimento incredibile e un enorme salto in avanti. Molti di coloro che supportano queste teorie, secondo le quali il 5G può fare davvero male, si basano sulle ricerche fatte dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che ha classificato le onde a radio sulle quali il 5G si basa come potenzialmente cancerogene per gli umani. E questo è abbastanza preoccupante, se ci pensate, perché sì, cioè potenzialmente cancerogene, sono onde pericolose, quindi sì e no, perché appunto lo sono, però se poi andiamo a vedere quali altre sostanze vengono considerate come potenzialmente cancerogene, troviamo anche cose banali che qui noi facciamo uso tutti i giorni, come il caffè, ad esempio. Chi non beve un caffè ogni tanto, io ne bevo due o tre al giorno. E sono qui vive vegeto, nel senso non ne bevo uno adesso perché è mezzanotte e un minimo vorrei dormire. Poi le accuse sul fatto che il 5G sia dannoso per la salute non finiscono qui, però questa è la cosa principale e se volete, se siete interessati, ci sono video dove spiegano molto meglio, dove ci sono persone molto più qualificate di me, che hanno più tempo per parlarne di me o che magari hanno parlato semplicemente con persone più capaci di me. Quindi andate a vederveli, ce ne sono tanti interessanti, qui voglio farvi un attimo un riassunto delle cose più importanti. Parliamo allora del secondo problema, ovvero la copertura. E questo discorso fa un po' diviso in due parti, a meno secondo me. Una parte è proprio quella della gittata pura, la distanza massima in linea d'aria che può esserci tra un antenna e un ricevitore. E la seconda parte è proprio di penetrazione delle onde attraverso le superfici. L'attuale portata è abbastanza semplice da spiegare, in realtà semplicemente, essendo le onde del 5G molto più ristrette rispetto a quelle del 4G o comunque in generale della maggior parte delle onde radio, sono capaci di ricoprire distanze molto minori, quindi servono più antenne semplicemente. Bisogna piazzare antenne dappertutto per essere sicuri che anche se ce ne teniamo un po' da una, ce ne è subito un'altra. Seconda parte del problema, questa è più grave, secondo me, la penetrazione delle onde. Perché non so se sapete come funziona un normale router Wi-Fi al giorno d'oggi. Ha due diverse frequenze, una 2.4 e una 5 GHz. Quello che avete anche voi a casa è quasi di sicuro un dual band appunto, perché ha due bande. La 2.4 GHz è più lenta nel trasferire dati, però in compenso passa molto meglio attraverso ostacoli vari, come possono essere muri, porte, finestre, persone. È proprio una portata maggiore, un raggio d'azione maggiore. La 5 GHz invece è più ristretta e fa più fatica a passare attraverso oggetti, però al stesso tempo lì dentro la connessione è molto molto più rapida. È anche un po' il motivo principale per il quale più vi avvicinate al vostro router, più la connessione va veloce. Una buona parte è data da quello. Però è importante capire che una banda così a 5 GHz, a volte sufficiente anche solo un muro tra voi e il vostro router in questo caso, perché si perde completamente la connessione e si passa alla 2.4 GHz. Quindi, se una differenza di 2 GHz è qualcosa, è così tanto evidente, così tanto importante anche proprio nelle cose pratiche. Pensate alla differenza che può fare, passare da 2.5 GHz circa, che è la frequenza del 4G che vi ho detto prima, a 300, ma anche solo a 150, rega. Cioè, lì anche le persone diventano ostacoli insormontabili per il 5G e addirittura si pensa alla pioggia, potrebbe essere abbastanza per bloccarlo. Quindi, cioè, immaginatevi muri o addirittura edifici, cioè lasciate ogni speranza se ci entrate. Ma potete non credere le mie parole, allora vi lascio un video qui sopra molto interessante di Linus Tech Tips, dove sono andati in giro per New York a vedere quanto sia facile davvero perdere questo segnale delle onde millimetriche 5G. Guardatelo, è molto carino e interessante. E vi fate un po' un'idea di quello che davvero significa avere una connessione così instabile. Terzo grosso problema del 5G sono ancora i costi. Perché è una tecnologia relativamente nuova, sì, e ogni tecnologia ha dei prezzi che deve sostenere per essere sviluppate, poi resa pubblica sul mercato globale. Ok, quello tutte, giustamente. Però il 5G ha anche altri problemi. Vi ho detto prima che servono tantissime antenne e quelle, bene o male, stengono costruite anche dagli operatori. Il costo di quelle antenne viene poi girato con un aumento della tariffa mensile sui conti degli utenti. Pensate solo a quanto fanno pagare in più certi operatori per passare da un piano solo 4G a uno che supporta anche il 5G. Per non parlare dei prezzi dei telefoni, che sono assolutamente più alti, spesso è una tecnologia ancora riservata ai top di gamma. Poi è vero che il 5G sta iniziando un po' a sbarcare su quelli che sono i medi di gamma. La 90 di Samsung è proprio il campione più palese di questa situazione. Ma anche la 90 comunque vede un bel incremento di prezzo rispetto a un telefono molto simile come può essere la 70, che però non ha il 5G. Sono circa 200 euro ma anche di più forse, dipende un po' da dove lo comprate, che momento, così, quasi solo per quella tecnologia. E come ho detto un attimo fa, gli operatori non perdono occasione per far pagare di più i contratti. Quindi questa è una tecnologia che se vuole davvero sfondare deve passare del prima possibile da premium a mainstream, in maniera che tutti la possano avere. E questi erano solo i problemi principali, ce ne sono tantissimi che possono venire in mente solo pensandoci un attimo, ad esempio il fatto che i telefoni con il 5G sono sempre o quasi più grossi delle loro controparti senza il 5G. Prendete un esempio palese, l'S10V Plus 5G rispetto alla famiglia normale degli S10, perché appunto devono avere batterie più grosse, perché il 5G, secondo problema secondario, consuma di più rispetto a un telefono normale con il 4G, avere queste nuove antenne richiede molta più energia e quindi i telefoni o hanno batterie che durano meno o hanno batterie più grosse, aumentando quindi la dimensione complessiva. Ci sono tantissimi problemini che poi vanno ad accumularsi e fanno pensare a una cosa, almeno secondo me. Quanto ci serve il 5G? Perché cioè io ci ho pensato, oggettivamente io quando sono in giro non ho mai problemi di velocità con la mia connessione, e tra l'altro pure Wind che non è così veloce rispetto a Vodafone o Team ad esempio. Però riesco a guardare video in 1080p, anche se li dovessi caricare con i dati ogni tanto l'ho fatto e faccio molto in fretta ad ogni modo, non ho problemi a caricare pagine internet, se devo giocare gioco bene senza lag. Non vedo tutta questa necessità per il 5G. Ci sono scopi non comuni e un po' particolari, dove è utilissimo, ad esempio c'erano demo di dottori che riuscivano a curare pazienti dall'altra parte del mondo con la velocità del 5G. Figata, quello è molto comodo, però serve a una persona su neanche mille, diecimila rega. Quindi sì, alla fine siccome la domanda è ancora quella, quanto ci serve questa tecnologia? Magari ditemelo qui sotto se credete che a voi potrebbe aiutare molto, perché io con il mio 4G LTE sto benissimo, non vedo il motivo di fare un upgrade. Non mi serve proprio, cioè a parte per fare lo speed test e vedere wow, un gigabit al secondo, non mi serve. Anche le applicazioni scarico in fretta, insomma, non lo so, magari è solo una mia idea. E voglio un attimo chiudere dicendo anche questo. Stasera parlavo con un mio amico che mi ha detto una cosa molto interessante che voglio riportare, ovviamente non voglio prendermi i suoi meriti, però poi a lui non frega niente di essere citato, credo, quindi non l'ho pensata io, non è una cosa che viene da me, me l'hanno detta. Mi fa... ma se per il 5G c'è sto casino? Il 6G non si fa praticamente. Cioè, è vero però, pensateci, se per questa onde millimetri del 5G, che sono onde radio, non è che migliorano col tempo, è proprio la fisica che funziona così, se è tutto sto bolletto, però pensate per il 6G. Potremmo arrivare a dire che il 5G sarà un po' la velocità definitiva, che non ci serve di più, ma io non credo comunque, perché con un consumo di dati sempre maggiore ci vorrà una maggiore velocità, ma non puoi fottare la fisica e quindi sarà interessante, strano, vedremo come va, però per ora credo di aver rimastrato il mio punto sul fatto che il 5G sia inutile, almeno per le persone comuni. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se è piaciuto potete iscrivervi, lasciare un piaccio e commentare, noi ci vediamo altri giorni con un nuovo video. Bella raga!